La voragine di Vicolo delle Muse è stata provvisoriamente chiusa. Domani, alle prime luci del mattino, operai provvederanno al ripristino del luogo. Questo è risposta all'appena segnalata voragine che da qualche settimana sorge nella traversa di Corso Vittorio Veneto a Favara, in Piazza della Libertà, meglio conosciuta come Consu. Quella a cui gli operai di Girgentiacco hanno provveduto già questo pomeriggio, come detto, è solo una soluzione provvisoria. Domani dovrebbero partire lavori per la definitiva sistemazione del posto. A segnalare alla redazione di Sicilia TV Notiziario l'enorme e profonda buca che giace in Vicolo delle Muse dalla fine di novembre, è stato il cittadino Costa che ha inviato foto e video tramite Sicilia TV Reporter, un numero WhatsApp 320 801 8463 messo a disposizione dalla nostra emittente alla cittadinanza.